Cominciamo questo incontro di presentazione del Vademecum alle sorgenti della salvezza, il Vademecum per il Catecumenato. Ogni anno il servizio per il Catecumenato fa qualche momento di formazione per i catechisti dei catecumeni. Quest'anno abbiamo voluto che anzitutto fosse questo un momento di incontro e di formazione per i catechisti dei catecumeni, perché questo strumento è pensato proprio per le parrocchie, per chi concretamente ha le mani in pasta e si occupa dei catecumeni della diocesi. Questo strumento è uno strumento molto facile, infatti ce l'avete tutti fra le mani è un libretto piccolino, sono meno di 80 pagine di libretto, quindi è proprio un Vademecum, sapete Vademecum vuol dire una cosa che puoi portare nelle mani, che puoi utilizzare semplicemente. Come nasce questo libretto? Nasce proprio dall'esperienza vostra, cioè dall'esperienza dei catechisti dei catecumeni, dagli ultimi anni di lavoro del servizio per il catecumenato, che sono sempre in dialogo con le persone. Il grande lavoro del servizio per il catecumenato è dialogare con i parroci, i catechisti, i catecumeni per portare avanti questi percorsi. Siamo in un momento particolare, contate che la pandemia che ha un po' paralizzato le attività pastorali per un tempo non indifferente, ha anche portato un calo dei catecumeni. Per esempio noi abbiamo di solito a Roma 120 catecumeni all'anno, più o meno, che si battezzano. Nel 2020 sono stati sessantina, cioè la metà, perché appunto si è un po' bloccato tutto, i numeri sono molto calati, la pastorale ordinaria si è fermata. Quindi è importante anche quest'anno invece riprendere nel modo usuale, anche per dare ai catecumeni il servizio il migliore possibile. Volevo ringraziare anzitutto voi tutti che siete qui presenti, in particolare Monsignor Giampiero Palmieri, vicegerente della Diocesi di Roma, a cui fra pochissimo darò la parola, e Don Giordan Pignero della Diocesi di Albano, che è il responsabile del settore catecumenato dell'Ufficio Catechistico Nazionale, quindi a livello della CEI. E a tutti voi che siete venuti, insomma, grazie per essere qua. Questo volumetto che presentiamo non è il primo che la Diocesi di Roma fa, perché c'è una tradizione di sussidi per il catecumenato. L'ultimo era stato fatto 15 anni fa circa, nel 2005-2006. C'erano due volumetti che si chiamavano Una via di luce verso Cristo. Altri dieci anni prima, a metà degli anni 90, c'erano altri volumi e sono sempre stati pensati come dei sussidi per i catechisti. Quindi, appunto, non è il primo della serie e non è un libro sul catecumenato, cioè non è una pubblicazione di quelle, appunto, scientifiche per chi voglia approfondire il catecumenato. Quelle ce ne sono tante, molto belle, e sono facilmente reperibili. Questo è proprio uno strumento pratico. Quindi lo strumento pratico dice che cosa si fa, quando si fa, come si fa, eccetera, eccetera. E si affianca a quello che è il grande libro del catecumenato, che è il rica, cioè il rito dell'iniziazione cristiana degli adulti, che è un libro liturgico dove ci sono tutti i riti, ma ci sono anche all'inizio le spiegazioni del senso del catecumenato. Quindi questo si affianca come, appunto, come coadiutore rispetto al rica. Ora, oggi vorremmo in particolare darvi uno sguardo generale a questo strumento che presentiamo, che nasce, vi dicevo, dal dialogo proprio con i catechisti della diocesi. È stato presentato due anni fa in bozza, subito prima del covid. È stato distribuito a questa in bozza ai catechisti dei catecumeni con richiesta di verificarlo e poi ci sono tornate un po' di osservazioni e quindi poi lo abbiamo sistemato a seconda di queste osservazioni che voi avevate dato e pubblicato. Appunto, in mezzo c'è stato il covid, quindi si è un po' dilazionata questa operazione. Però questo è il senso. Allora, oggi vorremmo darvi uno sguardo generale, anche proprio sul tema dei catecumeni, e poi approfondire con voi alcuni momenti che ci sembrano chiave e utili per la formazione, che qui sono spiegati. Soprattutto il momento dei primi incontri con i catecumeni, che cosa si fa nei primi incontri, perché si fa così, quali sono le attenzioni particolari da avere in quel periodo che si chiama pre-catecumenato. E poi, invece, qual è la metodologia classica e basica degli incontri che si fanno durante il tempo del catecumenato, con un'attenzione particolare al percorso di catechesi. Prima però di entrare un po' in questi temi specifici, lascio volentieri la parola a Monsignor Palmieri che appunto ci fa un'introduzione. Ringrazio tutti della presenza oggi, ma soprattutto del lavoro che quindi è stato forte, capillare, che c'è dietro al Vademecum. Io faccio soltanto qualche riflessione, ma sono condivisioni davvero che nascono da uno sguardo ampio e soprattutto che fanno riferimento, forse, a quello che poteva essere il Vademecum, chissà, della Chiesa di Roma del primo secolo, cioè il Vangelo di Marco, e che è tuttora, per certi versi, il testo che abbiamo tutti di riferimento, se non altro l'abbiamo avuto quest'anno, che sta per concludersi in anno liturgico, il ciclo dell'anno B, ma che secondo una buona fetta di esegeti è il libro del catecumenato per eccellenza. Tra tutti i Vangeli è quello più destinato, in modo particolare, destinato ai catecumeni. Prima di tutto l'esperienza che voi vivete mi sembra davvero fortunata, nel senso che voi avete a che fare con la perenne giovinezza della comunità cristiana. Pensate, ogni anno il Signore vi regala dei catecumeni, ci regala dei catecumeni. E questo non è qualcosa di trascurabile, perché sottolinea l'azione dello spirito nel cuore delle persone. Un'azione dove, sì, sicuramente molto dipenderà dalla testimonianza dei cristiani, dalla credibilità della comunità cristiana, dalla fede che si trasmette da amici, parenti, colleghi di lavoro, e che hanno fatto sì che un non battezzato adulto sente il desiderio di chiedere il battesimo. Che azione della grazia c'è stata? Simile probabilmente all'azione della grazia che c'è in coppie di fidanzati non particolarmente praticanti, e che sentono il desiderio però di celebrare le nozze, il sacramento delle nozze in Chiesa. Ormai sappiamo bene che questa scelta non è più dettata da convenzioni sociali, da tradizioni familiari, ma diventa sempre più una scelta, ormai lo è già da qualche anno, una scelta consapevole di questi due adulti. Ed è molto bello già dal primo incontro ascoltare da loro, dalle loro parole, come in maniera invisibile la grazia ha lavorato il loro cuore. Quando cominciano a tirar fuori i desideri che hanno ormai dell'anacronistico, passare la vita insieme, fare famiglia e mettere al mondo dei figli. Se non sono persone cresciute in parrocchia, di cui sappiamo, come diciamo, che tipo di animali sono, il pedigree, per il resto è la grazia che ha lavorato, e ha lavorato invisibilmente. Quindi voi avete un punto d'osservazione molto bello. Quali persone il Signore ci regala tutti gli anni per un cammino di catecumenato che li porti al battesimo. Avete la possibilità di fare massimamente l'ascolto contemplativo, contemplare l'opera dello Spirito nel cuore delle persone, l'opera della grazia. Quindi accompagnare i catecumeni significa partecipare a questa esperienza gioiosa della fecondità dello Spirito, della fecondità del Vangelo. Allora, come inizia il Vangelo di Marco? Voi lo sapete, archè, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Archè, l'inizio. Però è l'inizio di Dio, l'inizio divino. È l'iniziativa di Dio che diventa buona notizia. E questa buona notizia è che il Signore, il Signore Gesù, è appunto il Cristo, è il figlio di Dio. Questa è una buona notizia, una buona notizia sulla vita delle persone, i singoli e sulla storia umana. Perché Dio ha preso l'iniziativa, archè. È Lui che ha preso l'iniziativa per la salvezza dell'uomo. Su ogni uomo riposa la benedizione di Dio, che lo sappia o no, che ne sia consapevole o no. E la buona notizia che ti vengo a dare è che questa benedizione che ti raggiunge nella storia ha un volto. È Gesù di Nazareth. È il Cristo e il figlio di Dio. E allora mi è stato fatto notare, da qualcuno che conosce il Vangelo di Marco molto meglio di me, la ricchezza di significato contenuta nel particolare del ragazzo che durante la passione fugge via nudo. Voi ricordate, solo Marco ha questo particolare, che nel momento dell'arresto un ragazzo prova a seguire Gesù, ma siccome tentano di arrestarlo, lascia il lenzuolo nelle mani dei soldati e fugge via nudo. Se Marco è il Vangelo del Catecumeno, questo giovane catecumeno è colui che è camminato con Gesù e si è lasciato spogliare dalla parola di Dio. Questo giovane ha permesso al Signore di spogliarlo dell'uomo vecchio. Camminando con Gesù, ascoltando nella parola, l'uomo vecchio è stato smascherato e questo giovane è stato al gioco, si è fatto spogliare dal Signore. Ma arrivato al momento della passione, si dice a Roma non gli regge la pompa e fugge via. Forse da catechisti dei catecumeni anche voi avete avuto questa esperienza qui. Il catecumeno si lascia accompagnare, medita la parola di Dio, si lascia spogliare, mettere in discussione della parola di Dio, ma è arrivato al morire per amore, alla passione. L'argomento si fa arduo, soprattutto perché non si tratta solo di parlarne, ma di viverlo. E allora il catecumeno, forse come questo ragazzo del Vangelo di Marco, potrebbe voltare le spalle e fuggire via, nudo, ma fuggire via. Ricordo nella mia esperienza di parroco che qualche catecumeno, arrivato alla passione, è un mistero troppo grande, non solo da ascoltare, ma da parteciparvi. Ma questo non vale solo per i catecumeni. Vi ricordate come finisce il Vangelo di Marco. A parte la mano pietosa che ha giunto il finale con le apparizioni, che sapete è un'aggiunta successiva, anche se non molto tempo dopo, ma è un'aggiunta, il Vangelo di Marco scandalosamente finiva con le donne che, pieni di paura, fuggono via davanti al giovane vestito di bianco che gli annuncia la risurrezione. Andranno i discepoli in Galilea? Boh! Vedranno il Signore? Chi lo sa? Di per sé il Vangelo finisce con donne impaurite che fuggono via. Il giovane vestito di bianco è nella tomba di Gesù. Avete notato? Non è un angelo. È un giovane vestito di bianco. Quel giovane che è fuggito via nudo invece ha accettato di vivere la passione e la risurrezione con Gesù ed eccolo vestito di bianco. La veste bianca è quella della fede, della vita nuova nello spirito. Ha vissuto la passione con Gesù. Ma perché? Che cosa ha fatto il Signore? Il Signore si è lasciato spogliare. È morto per amore, raggiungendo gli uomini lì dove è la loro nudità, lì dove è il loro peccato, lì dove è la loro lebolezza. È il Figlio di Dio che si è fatto incontro e l'ha riaggiunti al vertice della loro miseria. Ed ecco che il centurione sotto la croce grida davvero quest'uomo era figlio di Dio. Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, figlio di Dio. A metà del Vangelo si scopre sulle labbia di Pietro che Gesù è il Cristo. Sotto la croce il centurione rivela che è il Figlio di Dio. Il Figlio di Dio che è entrato nella mia miseria per morire con me e risorgere con me. Ecco il giovane vestito di bianco, o meglio, io con lui. Lui risorge, io con lui. E allora che faranno le donne? Andranno in Galilea? Comincerà la storia del risorto insieme la sua Chiesa? O si ritireranno a vita privata e fuggiranno via? Vedete, la tentazione dei catecumeni è quella di ciascuno di noi. Di fronte alla passione d'amore di Gesù, vivere con lui la passione, morire con lui e con lui risorgere a vita nuova, la tentazione è sempre quella di fuggire. Ecco perché voi avete un ruolo, come dire, fondamentale. Accompagnate i catecumeni e arrivate alla passione. Dopo averli aiutati a spogliarsi, non fuggite. Si può affrontare con Gesù la passione e sapere che nella vita il bello è morire con lui, lasciare che muoia l'uomo vecchio e risorgere con lui, lasciandosi rivestire della veste bianca dello spirito e della fede. Si può entrare nella logica dell'amore di Dio per me come il centurione. Il centurione ne ha viste tante e chissà quante persone ha messo in croce e quante persone ha visto gridare maledetti e bestemmiare mentre venivano messi in croce. Solo quest'uomo dice padre perdonali perché non sanno quello che fanno. Solo quest'uomo dice padre nelle tue mani rimetto la mia vita. Per questo il centurione rimane meravigliato e dice davvero quest'uomo era giusto, davvero quest'uomo era figlio di Dio. È la fede, la fede che nasce sotto la croce, la fede nel Dio del perdono e della misericordia che ci aiuta a vivere come lui. Allora, catechisti dei catecumeni, voi aiutate tutti questi giovani che avete aiutato a spogliarsi dell'uomo vecchio a morire con Gesù, con la fiducia di risorgere con lui. Ovviamente non solo voi, ma tutta la Chiesa testimonia questo. E allora, questo va ad emecum. Io l'ho letto, l'ho partecipato a oggi a questa giornata, dopo averlo letto con attenzione, mi sembra molto bello perché raccoglie l'esperienza fondamentale di questi anni di catecumenato. Codifica alcuni criteri, dice alcune scelte, quelle che fra un po' sentiremo. Sottolineo semplicemente due aspetti. Prima di tutto la grandezza del cammino di fede che ha il suo cuore nel mistero pasquale. Ho provato a dirlo con il Vangelo di Marco. Questo è il vostro compito, introdurre le persone al mistero della Pasqua. Ed è straordinario. Il secondo elemento, lo dico senza un brano di Vangelo, lo dico così, è introdurre la ricchezza dell'esperienza ecclesiale. E davvero il vostro compito non è semplicemente illuminare la mente per illuminare la vita, ma è iniziare a tutta la ricchezza dell'esperienza ecclesiale, perché sempre di più diventa chiaro che la vita nuova non diventa nostra perché ne parliamo, ma diventa nostra perché la viviamo. Mutatis mutandis. Ad esempio, questo è vero anche per la pastorale giovanile. Non funziona più l'incontro di gruppo una volta a settimana in cui parliamo con i ragazzi. Questo funzionava per ragazzi che già ricevevano la fede in famiglia, ma sempre di più sono le esperienze di vita comune nei campi, nelle settimane formative, nell'esperienza dei punti giovani che a Roma si stanno diffondendo. Ecco, è proprio nel momento in cui si vive la vita cristiana insieme che un giovane la fa sua, un po' come la faceva sua prima in famiglia. Allora, un giovane che non viene da una famiglia credente ha però la possibilità di vivere tutta la infinita varietà dei registri della vita cristiana, vivendola insieme agli altri. Ecco, così è per questi catecumeni che voi accompagnate. È molto importante non solo parlare, ma introdurre alla ricchezza della vita cristiana, fatta di preghiera e di liturgia, di ascolto della parola, fatta di vita fraterna. Aggiungerei, accentuerei in modo particolare, fatta anche di diaconia, di servizio ai piccoli e ai poveri, fatta anche di partecipazione alla missione. Papa Francesco sottolinea che non si diventa prima discepoli, poi si fa un lungo percorso di catechesi per diventare missionari. Non funziona più questa roba qui, non ha mai funzionato, ma che proprio l'esperienza dell'incontro con Gesù ci mette già quella gioia nel cuore, che così come siamo, anche se non abbiamo approfondito troppo, ci spinge a condividere la fede. È un impulso profondo dello Spirito per cui siamo discepoli missionari, un po' come la samaritana, che non dice Gesù, aspetta divento tua discepola, mi faccio un po'... no, no, lascia la brocca e va a dire a tutti. Non so che mi è successo, ma ha incontrato uno che mi ha detto tutto quello che ho fatto e che mi sembra sia il Messia. e porta tante persone da Gesù. Ecco, anche la fede dei catecumeni, noi parroci lo sappiamo bene, proprio nella misura in cui è gioioso ed entusiasta, diventa una grande potenza missionaria. Allora, introdurre a tutta la ricchezza della vita della Chiesa. Giovedì scorso, e concludo, ho fatto un incontro con un gruppo di coppie con cui leggiamo insieme il Vangelo di Marco e tutti i mesi ci vediamo per leggerlo. E ci sono tra queste persone dei giovani adulti molto preparati sulla scrittura e altri invece, è un piccolo gruppo di cinque, sette coppie, altri invece no. Chi ha preparato la parte di rimeditazione, ha fatto una cosa dal punto di vista esegetico di alto livello. Era sul battesimo di Gesù nel Giordano. Gesù che entra, e poi il Vangelo di domani, è Gesù che entra tramite il battesimo nel Giordano in una dinamica di solidarietà piena e totale con i peccatori. L'ha detto molto bene, ma a un alto livello. Gesù che si fa l'ultimo degli ultimi, che va fino in fondo e in basso per essere solidale con i peccatori. Io sono rimasto molto ammirato, dopodiché ho detto, vai vabbè, alcune coppie avranno capite, dico forse queste altre coppie che hanno cominciato il cammino di fede da poco avranno fatto un po' di fatica. E una di queste coppie era particolarmente silenziosa, quindi mi sono detto hanno fatto fatica, finché non ha parlato uno dei due, il marito di questa coppia. Ha detto, io ho capito quello che vuoi dire, sai, fa a quello che aveva parlato, perché io mi occupo di disabili, è il mio lavoro. Sai che nessuno mi ha mai accolto come sono interamente, se non questi amici disabili che servo tutti i giorni. Poi si gira verso la moglie e fa, nemmeno mia moglie mi accoglie come sono. Solo loro mi hanno accolto così come sono. Capisco che Gesù si fa l'ultimo degli ultimi, capisco che si fa il più disabile dei disabili, perché solo da lì, da loro, io mi sono sentito accolto pienamente. Allora, la vita è la grande grammatica, la vera grande sintassi, il linguaggio di cui Dio si serve per parlarci della benedizione che ci raggiunge in Gesù. Allora, iniziate questi catecumeni a tutta la vita cristiana, a tutta la vita cristiana, a tutte le sue loro dimensioni, perché attraverso questo il Signore fa nascere anche in loro la vita nuova. Ecco, grazie a tutti e buon incontro. Eccoci. Ora con me entriamo un po' nel vivo del va de me, come vi chiederei un po' di prenderlo. E così faremo una parte un po' proprio su come abbiamo impostato questo libricino, che come diceva donna Andrea, viene un po' dall'esperienza che abbiamo raccolto in questi anni, quindi non è un saggio oppure un testo scientifico, ma proprio un testo molto molto esperienziale, pensato proprio per voi catechisti, perché possiate accompagnare i catecumeni. Parto dal titolo. Attingerete alle sorgenti della salvezza. È una frase presa da un salmo, che è contenuto nel libro del profeta Isai al capitolo 12, che parla appunto alla riconoscenza di un afflitto dopo essere stato liberato dal Signore. E due passi paralleli a questo brano sono Isai a 55, o voi tutti che avete sete venite all'acqua e la samaritana in Giovanni. Quindi abbiamo voluto dare questo titolo un po' per sintetizzare quella che è l'esperienza dei catecumeni. Arrivano perché hanno sete, ma hanno sete di un'acqua che li disseti davvero, un'acqua che non sia acqua di cisterne screpolate, come dice Isaia. Come si diceva prima, sono stati tre anni di lavoro, di ascolto intensi, sia raccogliendo le domande di voi catechisti, dei parroci che vengono a parlarci, suggestioni anche da voi messe in atto, sia ascoltando la storia dei catecumeni. Io sono sei anni, in questi sei anni penso di aver ascoltato tante storie, incontrato tanti volti. E come dice Papa Francesco nell'Evangelium Gaudium, la realtà è più grande dell'idea. Quindi all'inizio con Don Andrea ci siamo detti, ok, partiamo dalla realtà di Roma, partiamo dai nostri catechisti, partiamo dai nostri catecumeni. Quindi questo Vademecum è una lettura anche e soprattutto della realtà di Roma, che è una realtà abbastanza complessa, con tanti settori in diocesi molto variegati tra loro. Dico una cosa, il settore est della diocesi di Roma, di cui Monsignor Palmieri è responsabile, è tre volte più grande di una diocesi come Sorrento Castellammare, quindi un solo settore. Immaginate la varietà non solo numerica, ma anche di varietà proprio di situazioni che abbiamo concentrato. E quindi siamo partiti dai volti, come direbbe Levinas, da una teologia dei volti. E se potete prenderlo vedete che all'inizio c'è la presentazione del nostro cardinale, poi c'è una premessa fatta da me, Don Andrea, e poi il Vademecum si snoda in tre grandi parti. La prima parte protagonisti e non è stata una scelta editoriale, perché come vi dicevo siamo partiti proprio dalle storie, da quello che abbiamo raccolto, quindi tenendo davanti le persone. Una seconda parte in cui si snoda un po' l'itinerario nelle sue tappe, sia catechetiche, sia rituali. Poi come si diceva anche prima, per i riti si va alla rica, quindi non c'è bisogno di aggiungere quello che è già presente nel rica. E una terza parte metodologica e proposta di incontri, dove abbiamo detto cerchiamo di non dare nulla al caso. Vedremo con me nel precatecumenato e poi dopo nella mistagogia, perché che succede? A volte i catechisti dicono ma io che gli devo fare, come devo illustrare questi quattro pilastri del catechismo e della Chiesa Cattolica, che sono il credere, l'amare, il pregare, il celebrare. Cioè come io posso veicolare ai catecumeni tutto questo. E quindi attraverso questa proposta di catechesi abbiamo cercato in un certo senso un po' di sistematizzare quelle che sono gli argomenti. Quindi vi dicevo abbiamo tenuto in mente appunto quello che il Santo Padre continuamente ci ricorda la centralità della persona, quindi un annuncio fatto da persona a persona. E in primis c'è il catecumeno. Chi è questo catecumeno? Se noi chiedessimo a voi ma chi sono i vostri catecumeni, ognuno di voi darebbe comunque una descrizione diversa. Quindi il catecumeno va visto nella sua realtà nel suo sfondo, vedremo. E all'inizio del percorso il catecumeno è solo un aspirante che fa, va o dal parroco o da qualcuno di sua conoscenza e chiede il battesimo. Poi a un certo punto, cioè chiede il battesimo, cioè la richiesta dei sacramenti. Poi a un certo punto del cammino il catecumeno, ancora più liberamente, è chiamato a chiedere di essere ammesso al catecumenato con il rito dell'elezione e in terzo momento chiede al vescovo, poi lo vedremo in maniera dettagliata, di poter essere ammesso ai sacramenti e quindi di iniziare i riti prebattesimali, il primo rito dell'elezione che, come sapete, viviamo sempre qui in San Giovanni con il nostro cardinale. E poi trovate il cardinale vicario e vescovi ausiliari. Sapete che il primo catechista è il vescovo, in questo caso il primo catechista per la diocesi di Roma è il santo padre, ma lui il santo padre si avvale del cardinale, il cardinale a cascata si avvale di vescovi, ma è importante che cosa? Cioè che cosa deve fare il vescovo nel cammino? Deve solo celebrare i sacramenti oppure deve conoscere il catecumeno? Ci sono alcune diocesi molto piccole dove magari il vescovo più da vicino segue tutto il percorso del catecumeno. In questo caso noi diciamo due cose sono importanti. La prima che dopo aver celebrato il rito di ammissione al catecumenato il vescovo possa conoscere il catecumeno o il parroco lo invita in parrocchia oppure lo si porta in vicariato. E poi c'è un secondo momento un po' più solenne, potremmo dire anche canonico, che è quando il catecumeno scrive di suo pugno una lettera al vescovo prima del rito dell'elezione in cui si racconta, dice perché non sono stato battezzato, che cosa ha significato questo cammino per me e ora quali sono le motivazioni che ho porto per le quali chiedo il battesimo. E in quel momento noi diciamo sarebbe bello che non è che la lettera gli arriva così, arriva al servizio del catecumenato, però sarebbe bello che il vescovo in quel momento potesse incontrare il catecumeno, potesse diciamo scambiare qualche parola. Perché il vescovo nella sua vocazione è pastore, padre, è un catecumeno, ecco come prima diceva Monsignor Palmieri, anche se a volte la gente non ha le categorie filosofiche, teologiche, bibliche che noi possediamo, ma capisce, il popolo di Dio a volte capisce più di noi alcune cose, quindi capisce se un vescovo, appunto, quando un vescovo si affianca da padre. E poi abbiamo il parroco. Spesso è proprio il parroco a essere il primo, a essere interpellato, perché magari il catecumeno si reca dal parroco per chiedere il battesimo. Che deve fare il parroco? Noi diciamo che sarebbe meglio che il parroco non seguisse personalmente i catecumeni. Sarebbe meglio infatti affiancare una figura laica, lo vedremo quando parleremo dei catechisti, più vicina anche per età, per formazione a quello che è il catecumeno. Quindi il parroco ha però una funzione importantissima, soprattutto nei primi incontri del precatecumenato, che è quello dell'ascolto, dell'accoglienza, del discernere le situazioni, la situazione effettiva del catecumeno e poi lungo il corso del catecumenato anche di vigilare. In che senso? Una tantum dire stasera partecipo anche io all'incontro. Così vediamo un po' come sta andando la catechesi, se emergono questioni importanti e così via. Vi assicuro che la funzione del parroco è importantissima perché i catecumeni sentono se c'è qualcuno che li sostiene, li accompagna, pur non essendo diciamo coinvolti in maniera proprio diretta. Il parroco, diciamo, ha anche la funzione di venire in contatto con noi che siamo il servizio diocesano per il catecumenato, qualora ci fossero delle problematiche oppure delle situazioni un po' complesse o anche solo per segnalare la presenza di un catecumeno e quindi diciamo per iscriverlo al catecumenato. Avevo saltato la comunità. La comunità ha una duplice funzione, potremmo dire che ha una funzione un po' più spirituale perché la comunità che attraverso l'ascolto della parola, la liturgia, la carità, la preghiera genera nuovi figli. Cioè proprio attraverso la testimonianza di quelle persone che quotidianamente vivono la comunità a volte nascono nuovi catecumeni, nuovi figli. Ci colpisce che spesso ci sono dei catecumeni che vanno a messa e a un certo punto dicono, sa padre, io non sono battezzato. E noi gli diciamo, ma perché andavi a messa se non eri battezzato? Perché ero colpito dal modo di celebrare di quelle persone. Quindi c'è, anche se noi a volte nelle nostre comunità accogliamo più il negativo, c'è comunque una testimonianza, qualcosa che passa a queste persone che comunque sono lontane. E poi c'è anche un motivo logistico. La comunità deve accompagnare, deve far crescere nel catecumeno l'appartenenza. Che cosa diciamo? Diciamo che è importante l'appartenenza alla comunità, non solo nel tempo del catecumenato, ma nel dopo. Perché se io mi sono affezionata alla comunità, nel momento in cui anche il mio catechista cambia parrocchia, va da un'altra parte, io continuerò a essere innestata in quella comunità. Quindi la comunità ha una valenza formativa importantissima nel catecumenato, che non si deve sottovalutare. Questo è un punto su cui noi ci teniamo tantissimo. E poi, come anticipavamo già prima, c'è il catechista. Questo catechista che non deve essere un tuttologo oppure una persona speciale, deve essere un testimone, deve essere qualcuno che si affianca al catecumeno, che lo introduce, lo inizia, gli si fa compagno di viaggio, gli fa le catechesi, fa da ponte con la comunità, con il parroco. E quindi dicevamo che a volte è bene che siano proprio delle coppie. So che in mezzo a voi ci sono anche delle coppie che hanno seguito e che seguono i catechumeni, perché la coppia anche, diciamo, dà una diversità di approccio del maschile e femminile, che in un accompagnamento, diciamo, personale è molto, molto importante. Poi ci sono le famose figure dei padrini, no? Che sono sì delle figure istituzionali che emergono al momento del rito dell'elezione o del battesimo, ma sono anche meno istituzionali perché si fanno vicino. Sono amici, sono conoscenti, sono parenti e così via. E da qualche anno nella diocesi di Roma, insieme proprio a donna Andrea è nata questa cosa, abbiamo voluto anche, diciamo, far nascere un'altra figura, che è quella del tutor. Chi è il tutor? È capitato che ci sono state delle situazioni, da un punto di vista, diciamo, affettivo, molto complesse da parte dei catechumeni. Quindi ci siamo resi conto che era importante che al cammino verso il battesimo, quindi alla preparazione ai sacramenti, venissero affiancati soprattutto una coppia che aiutasse il catechumeno a fare discernimento sulla situazione affettiva che stava vivendo. Il tutor è una figura libera, entra in campo solo se ce n'è la necessità, ma di fatto basta il catechista, il padrino, così. Però è una figura importante. Un altro esempio vi porto di una ragazza vissuta in una famigliata e anche molto, diciamo, arrabbiata con la chiesa. Lei aveva conosciuto un'amica, era andata a casa di questa sua amica ed era rimasta sconvolta dal clima di serenità, pur nella diversità e nei conflitti che abitava in quella casa. Dopo lei ha scoperto che erano cristiani, perché una volta si era fermata a pranzo, loro hanno pregato prima di pranzare. Che cosa abbiamo fatto? Che quella famiglia è diventata il tutoraggio, e poi è stata invece affiancata a un catechista che gli ha fatto tutto il cammino. Quindi sono delle figure libere che però a volte noi come servizio diocesano suggeriamo. E poi infine ci siamo noi che siamo questo servizio diocesano per il catecumenato. Che cosa facciamo? Prima cerchiamo di ascoltare e supportare il parroco e i catechisti in quelli che appunto è il loro compito primario, che appunto, come dicevamo prima, di iniziare ai sacramenti, di iniziare alla vita cristiana. Poi proponiamo alcuni appuntamenti diocesani che si svolgono prevalentemente all'interno del seminario. Alcuni riti che celebriamo insieme, come il rito dell'elezione nella prima domenica di quaresima che celebriamo con il cardinale. Il terzo scrutinio è la consegna del padre nostro che celebriamo sempre qui in cattedrale. E in ultimo, dopo la Pasqua, celebriamo il rito della deposizione delle vesti nella Basilica di San Pancrazio al Gianicolo, che appartiene proprio alla tradizione romana. E in più, come servizio per il catecumenato, oltre diciamo ad accompagnare quei battesimi che sono celebrati nelle parrocchie, un po' veicoliamo anche tutto il discorso dei battesimi del Papa nella Basilica di San Pietro e quelli celebrati dal cardinale qui a San Giovanni. Soprattutto nell'ultimo tempo a San Giovanni il nostro cardinale ha voluto che fossero battezzati coloro che appartengono alle comunità nazionali presenti a Roma, quindi alle missioni, oppure magari agli universitari che di per sé non hanno proprio un'appartenenza territoriale parrocchiale. Veniamo all'altro punto, è mio ultimo punto, su che cos'è il precatecumenato. Allora, il precatecumenato, ci siamo sempre resi conto in questa opera di riflessione che abbiamo fatto, che sembrava un buco nero, un limbo. Il ragazzo va a chiedere il battesimo, ok, portiamolo, vediamo se è serio, se è motivato da rette intenzioni, facciamogli fare il rito di ammissione. Ma tra la richiesta e il rito di ammissione a noi è sembrato importante immettere non solo delle tematiche, che poi vedremo dopo con Donna Andrea, ma anche uno sguardo di discernimento importante. Perché? Che cosa accade? Accade che un aspirante va a chiedere il battesimo e che cosa deve fare il parroco o il catechista o il diacono che parla con lui? Deve avere, in primis, deve accoglierlo con gioia. Questa è la prima cosa, no? Accoglierlo con gioia. C'era il mio professore di teologia pastorale a Napoli, che ora è vescovo di una diocesi, e lui diceva così, nelle nostre parrocchie siamo pronti su tutto, proprio abbiamo una varietà di iniziative. Poi viene uno, Bussa, lui lo diceva un po' con un accento napoletano molto marcato, diceva Bussa e ci chiede, io vorrei conoscere Gesù. E noi gli diciamo, mi dispiace, ha sbagliato porta, no? Cioè, e quindi bisogna dire che cosa? Che il catecume, no? Il catecumenato non è un problema in più per la parrocchia, ma è un'opportunità. Cioè, il catecumenato è un'opportunità per il parroco, per la comunità, per i catechisti, è una sfida. Cioè, è un qualcosa di prezioso, non è che uno dice, mamma mia, mo' devo seguire pure il catecumeno, un altro problema in più, no? Quindi, ascoltarlo senza avere fretta, cercando di coglierne le motivazioni. E all'inizio, nei primi colloqui, è fondamentale avere presente tre punti importantissimi. Il primo punto, su quale sfondo familiare e sociale si è mosso questa persona? Cioè, da dove viene? Perché non è stato battezzato? Qual è la sua religione di origine? Perché cambia se magari una persona che era inserito già in una religione come l'Islam, l'ebraismo, oppure magari è vissuto in una famiglia atea, oppure è vissuto in una famiglia di cristiani che per rabbia non hanno voluto battezzare i figli. Cioè, a secondo dello sfondo che c'è, è importante coglierlo poi per decidere successivamente come muoversi. Logicamente, non è che uno a raffica fa queste domande. Perché non si è stato battezzato? Qual è il tuo sfondo sociale? Cioè, in un colloquio, però chi fa il colloquio deve aver presente che questa è la prima domanda. La seconda domanda è questa. Qual è attualmente la situazione che sta vivendo da un punto di vista affettivo, familiare, è sposato, è divorziato, ha avuto tanti altri matrimoni alle spalle, è universitario, è un ragazzo adolescente. Cioè, capire il qui e ora, qual è la situazione appunto di oggi. E il terzo punto, qual è la molla che ha fatto scattare questa richiesta di battesimo? Le molle sono variegate davvero. C'è capitato una cosa molto particolare di un insegnante di yoga che era un ragazzo molto giovane. A un certo punto il suo maestro gli dice, io ora voglio farti fare un passo in più, voglio farti entrare nella meditazione profonda dello yoga. Parlo un po' così perché non so bene i passaggi dello yoga, però lì ci aveva raccontato questo. E dice che questa proposta da parte del suo maestro gli aveva fatto dire, ma come faccio io a iniziare la meditazione se non conosco Gesù Cristo? E questa domanda dentro lo ha martellato fin quando si è deciso a chiedere il battesimo. O spesso magari le molle sono le nascite dei figli, dove la persona dice, io gli ho dato la vita, ma che cosa, che prospettiva di futuro, no, posso avere? O la prima comunione dei figli. O qualche anno fa c'era capitato che c'erano due o tre persone in maniera così divisa tra loro, che in un momento di grande sconforto della loro vita erano entrati in chiesa e lì avevano trovato Gesù e Eucarestia. Si erano fermati, avevano iniziato a pregare, poi erano ritornate così. Quindi ora ho detto giusto tre, quattro esempi un po'. Però sono davvero varie, a volte anche un po' più complesse di quelle che vi ho raccontato. E quindi è importante tener presente questi tre momenti. Perché non ha ricevuto il battesimo, cioè il punto d'inizio? Qual è la situazione attuale che sta vivendo ora il catecumeno? E terzo, qual è il desiderio che lo spinge? Qual è il desiderio che lo spinge? E' importante conoscersi con una certa gradualità e poi piano piano scendere nella conoscenza. Quindi capite che già questo è il precatecumenato, cioè gli incontri di ascolto, di discernimento, di conoscenza, di valutazione da parte di chi ascolta, anche a capire come deve essere strutturato poi il cammino. E già in questo tempo è importante invitarli alla messa domenicale. E voi mi direte, ma che c'entra la messa se non possono ricevere l'eucarestia, se non possono professare il credo, se non possono dire la preghiera del Padre nostro. C'entra perché comincia a nascere quella appartenenza di cui parlavamo prima quando parlavamo della comunità. Qualche anno fa abbiamo avuto una catecumena che abbiamo invitato a messa in una parrocchia. Lei dopo ci ha comunicato questo, ha detto, io andavo a messa e all'inizio veramente mi sentivo in estranea, non ci andavo proprio con uno spirito diciamo così tranquillo, perché non conoscevo le preghiere, cose che noi a volte sottovalutiamo. Un catecumena a volte non conosce le preghiere, non conosce le parti della messa, non conoscevo i canti e invece vedevo che tutta l'assemblea cantava, non conoscevo le persone. E allora io le ho detto, dato che dopo lei ci andava volentieri, ho detto, e qual è stato diciamo lo scatto dentro di te? E lei mi ha detto una cosa semplicissima che però a noi ci ha fatto tanto riflettere. Nel momento in cui ho cominciato a cantare insieme a loro io mi sono sentita parte di quella comunità. Quindi la messa, ecco è importante la partecipazione alla messa perché appunto nella partecipazione alla messa il catecumeno, anche se non è ancora parte di una comunità, comincia ad affacciarsi. E poi in questo periodo del precatecumenato è importante che il catechista, cioè la persona a cui è affidato, comincia a fargli conoscere le varie realtà, le varie persone. Quello si occupa della carità, cioè così il catecumeno comincia a focalizzare i volti. E quindi il precatecumenato ha un inizio, che appunto è la richiesta dell'aspirante di ricevere il battesimo e ha una fine, che è il rito di ammissione al catecumenato. Questo periodo, noi diciamo, dovrebbe durare massimo tre mesi, esagerando proprio se le situazioni sono molto complesse cinque mesi. Ma non è che alla Pasqua del 2022 loro devono ricevere il rito dell'elezione e una settimana prima gli faccio il rito di ammissione al catecumenato. Capite che senza il rito di ammissione al catecumenato parliamo ancora di un aspirante e non di un catecumeno. Quindi è importante che chi accompagna sa che c'è questo periodo del precatecumenato che, anche se non ha delle leggi fisse, come vedremo per il rito dell'elezione e il battesimo, comunque deve stare dentro un certo limite. E alla fine chi è che decide se la persona è pronta per ricevere il rito di ammissione al catecumenato? Lo decide il catecumeno, il catechista e il parroco. Quindi è importante il discernimento fatto insieme nei primi mesi. E che cosa diciamo noi? Sarebbe bello, anche se non è codificato, che prima di ricevere il rito di ammissione al catecumenato il catecumeno possa scrivere una piccola lettera da indirizzare magari al parroco, anche per tenere per se stesso, dove dice io sono partito da qua, non ho ricevuto il battesimo perché i miei genitori sono atei. Poi ho vissuto questa cosa, la molla che mi ha fatto venire il desiderio di ricevere il battesimo è stata questa e il cammino fatto in questi mesi è stato questo. Quindi, pertanto, vengo a chiedere di diventare il catecumeno. Questo è importante. Come è importante per voi catechisti tenere un piccolo quaderno, un piccolo diario dove appuntarvi alcuni momenti salienti. Perché, come diceva prima Monsignor Palmieri, può essere che a un certo punto il catecumeno si scoraggi e dica ma chi me l'ha fatto fare? A me fare due anni, è un percorso comunque bello ma impegnativo, sto avendo queste difficoltà, ma perché devo andare avanti? E il catechista che magari si è appuntato qualche frase degli incontri avuti, magari gli può far venire dentro a dire guarda è vero che ora tu sei scoraggiato, però quando hai chiesto il battesimo tu è rianimato da questo desiderio. Ecco, quindi l'accompagnamento che il catechista fa anche nel far ricordare i passaggi è molto molto importante. Molto molto importante. E' importante, e noi ci teniamo tantissimo, che anche il rito di ammissione sia fatto in piena libertà. Cioè, dato che stiamo davanti a degli adulti, ma noi ci crediamo anche davanti a dei bambini, costantemente dire allora andiamo avanti, sei pronto, sei convinto? A me ha colpito quando sono diventata suora che ho fatto il mio ingresso, diciamo, in questa famiglia e c'era, mi aveva accompagnato solo mio padre perché mia mamma non era d'accordo, quindi però comunque eravamo andati da Salerno ad Assisi, quindi a un certo punto stavano per iniziare i Vespri, nei quali mi avrebbero consegnato la liturgia delle ore, il Tao, così, e il sacerdote che mi accompagnava, che presiedeva quei Vespri, mi ha chiamato in sacrestia e mi ha detto sei convinta? E io, eh sì, sì, sono convinta. Lì mi ha detto, no, perché se non sei convinta noi possiamo anche non farlo. Quella frase, forse detta così per circostanza, a me è servita molto lungo il cammino, cioè lungo il cammino c'è sempre la libertà di scegliere o anche di non scegliere o di riscegliere e questo dobbiamo farlo passare ai nostri catecumeni, che niente diciamo è standardizzato, ma tutto è un po' in evoluzione. E dico un'ultima cosa e poi lascio la parola a Donna Andrea, che come dicevamo all'inizio abbiamo voluto pensare a una proposta di catechesi proprio anche per il precatecomenato, cioè dopo questi incontri conoscitivi di discernimento, a chi lo affido, come lo affido, come andiamo avanti nel cammino, è importante affrontare delle tematiche. Noi proponiamo in questo libretto otto tematiche che si possono snodare anche su tredici incontri, dove la finalità di questi primi incontri del catecumenato sono presentare la figura di Gesù e avviare il catecumeno a una prima relazione di discepolato con il Signore. Lo facciamo attraverso poi il Vangelo di Giovanni e però è importante che sempre chi accompagna ha davanti queste due finalità, la figura di Gesù e una prima relazione con lui. E vi dico un aneddoto che mi aveva molto colpito. Prima del Covid, per qualche mese, ho accompagnato un catecumeno che proprio era, diciamo, da un punto di vista anche proprio linguistico, era italiano, però non aveva proprio un approccio alla fede, quindi era tutto molto nuovo. Leggiamo il Vangelo di Giovanni, nelle prime parti dei primi discepoli. Allora abbiamo letto, io prima di spiegarlo ho detto che cosa ti sembra questo Gesù che emerge da questo Vangelo? E lui, secondo le sue categorie, mi ha detto mi sembra un VIP perché tutti girano intorno a lui. Mi ha fatto ridere tanto, però ho capito che forse noi che stiamo da quest'altra parte, a volte dobbiamo dare spazio ai linguaggi dei catecumeni, sono linguaggi che ci fanno sorridere, però sono i loro linguaggi, cioè sono le loro categorie, no? Ma aveva capito che in quel Vangelo che avevamo letto, la figura centrale era quella di Gesù, dove tutto ruotava intorno a questo Gesù e lì quindi gli aveva dato, diciamo, il nome di VIP, no? Un VIP così. Ora lasciamo lo spazio al secondo intervento, intanto vi ringrazio per l'attenzione. Se prendete pagina 24 del Vademecum, cioè l'inizio dell'itinerario della seconda parte del Vademecum, avete uno schemino su come è fatto proprio il percorso dal punto di vista formale. Questo è uno schemino base del catecumenato. Allora abbiamo, come sapete, quattro parti, il precatecumenato, il catecumenato, la preparazione prossima e la mistagogia. E queste quattro parti sono segnate da alcuni tempi che in alcuni casi sono variabili, dipende dalla situazione, in altri casi invece sono molto fissi. Ora, l'inizio, il precatecumenato, due, tre mesi è variabile. Diceva Sorpina, se ci sono situazioni che richiedono approfondimento, magari anche quattro mesi, cinque mesi, però non di più. Il catecumenato, invece, è del tutto variabile. Questo dipende veramente dalla persona, da come va il cammino, se è costante, se non è costante, se è deciso, non è deciso, che tipo di preparazione ha. Dicevamo, no? Ci sono situazioni molto diverse. Magari c'è un catecumeno che di fatto frequenta la parrocchia da tempo, da un anno, e poi dopo aver lungamente frequentato si decide a chiedere il battesimo. È un caso. E c'è un altro, invece, che arriva, perché, casi veri, perché la notte ha sognato Gesù, che gli diceva qualcosa, viene in chiesa e dice voglio diventare cristiano. Chiaro che sono due situazioni completamente diverse, no? E quindi il catecumenato durerà quello che serve. La durata ordinaria, se non ci sono particolari problemi, è un anno. Poi c'è la preparazione prossima, che invece è un tempo molto definito, perché va dalla prima domenica di Quaresima, quando si celebra il rito di elezione, fino alla Pasqua. Quindi questi sono quei 40 giorni della Quaresima. E anche la mistagogia ha una durata precisa, perché dura da Pasqua a Pentecoste. Quindi sono tempi molto scanditi. E sono anche tempi, questi, in cui la catechesi deve essere molto precisa. Cioè, nel periodo della preparazione prossima, dopo il rito di elezione, le catechesi devono essere esattamente quelle, perché c'è un ritmo dato dalla liturgia, dai riti che i catecumeni fanno, dagli scrutini, dalle consegne, che richiede di essere seguito. Diverso è il caso del catecumenato, in cui i temi della catechesi li decidete voi, che cosa usare per la catechesi lo decidete voi, e così via. Ora, come funziona un incontro tipo di catechumenato? Nella terza parte del percorso, cioè da pagina 36 in poi, diamo qualche linea di metodologia degli incontri. Ora, chiaramente la metodologia dipende anche molto da chi è il catechista. Perché? Perché il catechista è lui che introduce il catecumeno nella fede della comunità cristiana, ma quindi il suo modo personale di vivere la fede è determinante. Se tu sei uno che, non lo so, fa servizio in Caritas, è chiaro che userai anche le tue conoscenze, le tue frequentazioni, il tuo servizio per introdurre il catecumeno nella fede. Se tu sei uno che fa parte del gruppo carismatico di preghiera, è chiaro che quello è il tuo stile, no? E va benissimo. Cioè, è ovvio che, siccome tu sei lo strumento che il parroco ha chiamato a fare questo servizio, e che possiamo dire che il Signore ha chiamato a fare questo servizio, quindi il tuo modo di vivere la fede, come sei fatto tu, cosa piace a te, è determinante, e quelle cose le usi tutte, no? Quindi questo varia abbastanza a seconda di come sei fatto tu, perché è ciò che piace a te della fede che soprattutto arriverà a Lui, è ciò che ti appassiona a te. Se a te piace andare per chiese a vedere, non so, le chiese di Roma, che sono bellissime, portalo per chiese a vedere le chiese di Roma, se capisci che anche a Lui può piacere, ovviamente, no? Cioè, non è che uno, siccome piace a me, allora lo facciamo. Però si parte chiaramente da quello che, per esempio, c'è un mio amico che fa pastorale giovanile, diceva, io faccio pastorale giovanile così, porto i ragazzi ad arrampicare, ad arrampicare, quindi o in palestra a fare proprio l'arrampicare sulla parete, oppure fuori ad arrampicare. Funziona? Funziona benissimo. Funziona benissimo, perché è una sua passione, lui porta i ragazzi a fare queste arrampicate, glielo insegna, le accompagna, poi si chiacchiera, no? E si chiacchiera di cose anche serie a volte, facendo le cose insieme. Quindi per dire, partite da voi stessi anzitutto, partite da ciò che a voi piace, ciò che a voi vi tocca, perché magari toccherà anche lui. Però una cosa che non può mancare negli incontri di Catecumenato è la parola di Dio. Per questo ci siamo soffermati soprattutto su questo punto. Allora, a pagina 36-37, vedete quale può essere la struttura di un incontro tipico di Catecumenato. L'incontro tipico di Catecumenato ha al suo centro una parola, una parola di Dio. Allora c'è una scaletta che dice così, accoglienza, preghiera e invocazione dello Spirito Santo. Accoglienza intendiamo entrare in empatia. Quindi non potete cominciare a freddo un incontro, no? Bene, allora oggi leggiamo il Vangelo di... Non si fa, no? Si entra in un clima cordiale, perché anzitutto è un incontro fra persone, se no state smentendo con l'atteggiamento ciò che dite con la parola, no? Quindi anzitutto è un incontro fra persone, accoglienza, come stai, come non stai. Voi avete a mente, come diceva Sor Pina, come sta lui, che cosa vi ha detto la volta prima, eccetera, eccetera. Cioè ci si incontra anzitutto, si si prende un caffè insieme, quello che vi pare. Comunque qualcosa che crei un clima di incontro. Si invoca lo Spirito Santo, poi si introduce al tema dell'incontro e al brano evangelico. Questa introduzione deve essere molto breve. Magari serve spiegare qualcosa prima di ascoltare quel brano del Vangelo, perché altrimenti non lo capisce. Dipende anche molto dal livello del catecumeno, se è una persona magari colta o se è una persona che invece non ha gli strumenti culturali. Insomma, vi regolate voi. Comunque basta una piccola introduzione e poi si va a leggere la parola. Lettura del brano, che deve essere proprio letto dalla Bibbia. Assolutamente. Non ci sono alternative su questo. Dovete avere la Bibbia e leggere la Bibbia aperta, insieme. Se volete se ne possono essere due, una voi e una il catecumeno. Non ci sono altri modi di fare questa cosa. Poi, una domanda aperta per la risonanza. Cioè, prima di parlare voi del brano del Vangelo, chiedete, di primo a Chito, che cosa ti colpisce di questo brano del Vangelo? Appunto, che Gesù era un VIP, e ha detto questo catecumeno, gli diceva Sorpina. Quindi, non partite da voi, da quello che voi chiaramente vi siete preparati sul brano, ma partite invece dalla prima cosa che a lui lo colpisce, cosa gli fa pensare, cosa gli fa venire in mente, cosa non capisce, cosa non gli piace del brano del Vangelo. Va bene. Partite da lui. Dopo aver dato spazio alla sua risonanza, allora si dialoga sul tema. Cioè, a partire da quello che lui dice, voi, che avete il brano pronto, che sapete qual è il punto di quell'incontro, cominciate il dialogo con lui. E fate una breve catechesi, penultimo punto, che tiene conto di quanto detto dal catecumeno. Breve, ovviamente, non dovete attaccargli, come si dice a Roma, un siluro sul tema. E poi, ultimo punto, consegna di una parola da meditare. Cioè, che cosa vuol dire? Che del brano che avete letto o delle cose che vi siete scambiati, voi identificate, mentre parlate con lui, identificate un punto che vi sembra che sia quello che tocca di più la vita del catecumeno e su quello gli proponete di continuare a lavorare da solo durante la settimana. Prendiamo, ad esempio, il primo tema, che sta a pagina 41. Abbiamo scelto qui di seguire l'inizio del Vangelo di Giovanni, poi vi spiego perché, ma il primo brano che proponiamo da leggere è il primo incontro di Gesù con i discepoli. Quindi, vi ricordate che ci sono Andrea e il discepolo amato che sono discepoli del Battista. Battista gli dice ecco l'agnello di Dio, seguono Gesù, Gesù si volta, che cercate? Maestro, dove abiti? Venite e vedrete. Andarono da lui e settero da lui tutto il pomeriggio ed erano circa le quattro quel giorno, no? Allora, si legge insieme questo brano. Che cosa ti colpisce? Tu cominci a parlare con il catecumeno, nel dialogo uscirà qualche cosa e tu magari identifichi che la cosa che lo ha colpito è la domanda. Che cosa cercate? Perché l'hai visto che su quella domanda lui si è fatto pensieroso. Su che cosa lui sta cercando nella vita. E allora gli consegna alla fine come parola da meditare questa qui. Cioè gli dici, bene, continua a pensare a questa domanda. Considera che Gesù questa domanda te la fa a te. Che cosa stai cercando? E pensaci, prova tutti i giorni di questa settimana fino al nostro prossimo incontro prova a sentirti rivolgere questa domanda. Ma che cosa sto cercando? Cosa sto cercando? Ok? Quindi questo si intende come consegna di una parola da meditare. Partite dal brano del Vangelo e poi nel dialogo dovete voi intuire qual è il punto chiave per lui. Che non è detto magari che sia quello che quando avete preparato vi sembrava il punto chiave. Nel dialogo escono cose nuove ed è sempre la cosa bella. Ora, perché abbiamo scelto il Vangelo di Giovanni come traccia per i primi incontri? Per un motivo molto semplice perché è la traccia per il periodo dell'elezione. Cioè è la traccia per il periodo della preparazione prossima. Sapete che dopo l'elezione ci sono tre grandi incontri del Vangelo di Giovanni Giovanni IV, Giovanni IX e Giovanni XI che vengono usati per rivelare al Catecumeno un aspetto di Cristo. Cristo fonte di acqua viva nell'incontro della Samaritana, Cristo luce nell'incontro con il cieco e Cristo vita e risurrezione nell'incontro con Lazzaro. La tradizione della Chiesa sin dai primi secoli ci consegna questi testi come i testi del Catecumenato. perché? Perché Giovanni è difficile da leggere. Questi brani sono lunghi ciascuno 50 versetti. Non so se vi ricordate quando la domenica di quaresima dell'anno A capitano questi Vangeli la messa dura sempre 5 minuti di più perché ci vuole 10 minuti per leggere questi Vangeli. Quindi sono testi molto densi. Però la Chiesa li ha scelti proprio perché sono delle catechesi in qualche modo già fatte, già pronte. è il Vangelo spirituale il Vangelo di Giovanni in cui non viene semplicemente raccontato il fatto viene proprio fatta la catechesi su quel fatto e per questo è il Vangelo tradizionale che si usa nel Catecumenato. Allora anche all'inizio ci è sembrato utile seguire questo filo del Vangelo di Giovanni. Quando poi invece si passa al Catecumenato se andate a pagina 55 trovate la la proposta quando si passa al Catecumenato che ha questo tempo variabile che dipende dalla preparazione del Catecumeno e dal suo cammino non c'è un testo perché e non ci sono non c'è nemmeno una scansione di incontri perché dipende dipende tutto quali sono i punti immancabili i quattro pilastri della Chiesa Cattolica cioè dovete in qualche modo parlare della fede del celebrare dell'amare e del pregare come lo fate dipende da voi quali fonti suggeriamo ovviamente c'è il Vangelo tutti i Vangeli per esempio le parabole di Gesù le parabole di Gesù non ci sta molte parabole non ci stanno né in Marco né in Giovanni ma voi non potete fare il Catecumenato senza leggere il figlio il prodigo che c'è in Luca no? non potete è ovvio quindi non si usa un Vangelo per il Catecumenato si usano tutti i Vangeli necessariamente ma come proprio strumento di Catechesi se guardate proprio a pagina 55 noi abbiamo segnalato le Catechesi dei Papi quelle delle udienze del mercoledì perché? perché quelle è il Magistero ordinario e comune del nostro Vescovo e teniamo conto del fatto che siamo a Roma e sono Catechesi che prendono i temi centrali della vita cristiana già resi in Catechesi cioè sono molto più semplici del Catechismo della Chiesa Cattolica sono molto belle da leggere e se guardate un po' questo schema fra Benedetto XVI e Francesco si coprono tutti e quattro i pilastri della Catechesi quindi tranquillamente potete attingere a quelle Catechesi vi trovate gli incontri già fatti con il materiale con la proposta biblica già data perché ci sono sempre i riferimenti biblici quindi è uno strumento semplice e bello da usare poi se girate pagina avete l'indicazione di altri altri punti importanti la storia della salvezza dare un po' uno sguardo alla storia della salvezza parlare delle parabole di Gesù e poi fare incontri sui tempi liturgici e le e sulle feste cristiane andiamo un attimo al tempo della mistagogia che trovate a pagina 60 diciamo 63 64 il tempo della mistagogia dal momento che ha una durata precisa perché sono le sette settimane del periodo pasquale quindi da Pasqua a Pentecoste anche qui abbiamo scelto di indicare esattamente i temi di catechesi in questo caso però non sono necessariamente in questo ordine sono temi che voi sapete che dovete trattare in quei 50 giorni però ve la potete un po' muovere come preferite a che cosa che cosa manca alla preparazione del catecumeno dopo che è stato battezzato quindi dopo che ha ricevuto battesimo cresimo e comunione gli mancano sostanzialmente tre cose primo una catechesi sui misteri che ha vissuto una catechesi sull'eucaristia sul battesimo sulla cresima come sapete la tradizione della chiesa nel catecumenato è di non spiegare prima i misteri i sacramenti ma di spiegarli dopo che sono stati vissuti noi vi chiediamo di spiegare prima quello che serve al catecumeno per vivere bene i sacramenti perché gli serve di sapere qualche cosa non potete non possiamo andare a sorpresa totale ok deve sapere qualche cosa per poter vivere con serenità quello che sta per vivere però poi la catechesi sul senso profondo di ciò che sono i sacramenti dovrebbe riceverla dopo averli celebrati e dopo aver cominciato a comunicarsi e quindi aver vissuto tutta l'eucaristia quindi la catechesi sull'eucaristia si fa dopo la catechesi forte sull'eucaristia secondo punto la confessione la catechesi sulla confessione si fa dopo perché la confessione non è un sacramento dell'iniziazione cristiana ma è un sacramento che se io mi sono allontanato dalla comunione che ho vissuto mi serve per tornare in comunione questa dinamica la dinamica della conversione è chiaro che il catechumano la conosce fin dal principio ne parlate sempre praticamente perché si sta convertendo ma la catechesi sul sacramento della riconciliazione la fate dopo e anche se è possibile se vedete che è il caso organizzate una una confessione magari o almeno un'occasione penitenziale in cui ci sia questa possibilità quindi questo è un altro punto fondamentale terzo punto fondamentale sarebbero i temi 3 e 4 che trovate alle pagine 66 68 e sono quello che possiamo dire i due aspetti della relazione con Dio la mia relazione personale con Dio e la relazione comunitaria con Dio cioè nel momento della mistagogia è importante fare una sintesi con il catecumeno e dirgli bene hai fatto tutto questo percorso adesso questi sono gli ultimi elementi che ti diamo come come formazione poi ti devi tu trovare un cammino di fede che ti porti avanti nella vita è molto importante dare il senso che ha cominciato il cammino di fede lui poi si deve trovare gli strumenti per vivere questo cammino di fede quali saranno questi strumenti quelli che gli piacciono a lui come tu ti sei trovato quelle cose che a te piacciono e magari fai quel cammino di fede fai quel gruppo di preghiera ascolti quelle cose lui deve fare la stessa cosa si deve trovare qualcosa che lo aiuta che gli piace tu puoi aiutare accompagnarlo un po' ma poi lo deve fare lui questo lavoro allora questi temi il 3 e il 4 riguardano tutti questi aspetti quindi l'ascolto della parola di dio la preghiera personale leggere le vite dei santi avere un sacerdote di riferimento l'ascolto comunitario della parola il servizio l'amore per il prossimo eccetera eccetera dovete arrivare a questi temi perché lui possa pian piano orientarsi sul prosieguo della sua vita cristiana ultimo punto però non è una cosa che necessariamente ci deve essere nella mistagogia dipende dal catecumeno è il discorso sulla vocazione sullo stato di vita perché dico che non necessariamente ci deve essere perché magari il catecumeno già ha scelto lo stato di vita è sposato ha tre figli così insomma non è che dovete tornare su quel tema come se dovesse fare un'ulteriore scelta tutto ciò che lui vive sarà illuminato dal percorso di fede però invece capitano casi in cui avete magari un ragazzo una ragazza giovane allora in quel caso è importante parlare della vocazione parlare della scelta dello stato di vita presentare anche un po' quelle che nella chiesa sono le proposte principali che vengono fatte a questo proposito bene ultimissima cosa nella terza pagina nella terza di copertina quindi alla fine del del vade del vade me trovate l'immagine di un fonte battesimale questo è un fonte battesimale africano dell'Africa romana perché l'immagine del fonte battesimale perché vi dà un'icona su quello che è il percorso del catecumenato a Roma non si vede molto bene perché se andate al battistero il nostro fonte insomma è un po' rielaborato per cui non si capisce bene il senso del fonte battesimale ma normalmente il fonte battesimale antico era una vasca nella quale si scendeva spesso attraverso tre gradini poi si riceveva il battesimo dentro e poi si risaliva attraverso altri gradini molti fonti antichi sono così una vasca nella quale si entra si scende e si risale ed è un'immagine molto bella perché ricordate che si entrava nudi si spogliavano entrando e poi si veniva rivestiti della veste bianca è un'immagine bella perché è un'immagine del percorso del catecumenato come diceva don giampiero al principio è lo spogliarsi di una veste per rivestirsi di un'altra veste spogliarsi dell'uomo vecchio direbbe san paolo per rivestirsi di un uomo nuovo è bellissimo assistere a questa cosa cioè è un privilegio accompagnare una persona in questo percorso accompagnarlo nella discesa accompagnarlo nella risalita è veramente un dono grande che il signore ci fa ed è bello usare questa immagine perché corregge anche un nostro potenziale errore il percorso di catecumenato è anzitutto un percorso di discesa non è in nessun modo un percorso di miglioramento umano no non si tratta di diventare una persona migliore non è questo il senso si tratta di discendere fino alla base della vasca dove si viene immersi nella morte e risurrezione di Cristo cioè potremmo dire in chiave un po' esistenziale psicologica si tratta di rientrare in se stessi e di scoprire in se stessi l'amore di Cristo e anche l'oscurità che abita il nostro cuore se pensate a come sono fatti gli scrutini quelli proprio che accompagnano i catecumeni al battesimo nella quaresima sono tutti giocati sul male e il bene devi scoprire il male che c'è in te e Cristo che vince questo male l'oscurità che c'è in te è Cristo che vince l'oscurità la morte che c'è in te Cristo che vince la morte è un percorso di discesa appunto di discesa potremmo dire di semplificazione si tratta di diventare veri di diventare umili di stare nudi davanti a Dio per poi essere rivestiti da Dio rivestiti dalla grazia allora voi accompagnate quindi in questo percorso di discesa e di risalita e ogni volta che accompagnate in qualche modo lo fate pure voi perché ci mette poi sempre in discussione quindi è bello il fatto di partecipare anche personalmente a questa discesa e risalita in fondo è quello che la Chiesa ci insegna a fare perché il tempo di quaresima che tutti i cristiani vivono nello stesso modo è fatto apposta per seguire i catecumeni cioè tutta la Chiesa in quaresima fa le stesse tappe dei catecumeni perché a tutti ci serve di rivivere questa discesa e questa risalita quindi non siete solo voi i catechisti che li accompagnate però certamente voi lo fate in modo particolare quindi è molto bello questo abbiamo l'onore di avere il responsabile italiano del catecumenato quindi bene era per ringraziare per ringraziare lo strumento che sicuramente sarà utilizzato da altre diocesi eh dico subito noi abbiamo nel catecumenato nazionale la ricchezza di condividere delle esperienze la diocesi di Roma negli anni ci ha aiutato come servizio nazionale sapete siete una presenza permanente nel gruppo nazionale possono cambiare i responsabili ma Roma è sempre presente lo strumento è molto interessante perché aiuta a cogliere due aspetti non semplici da coniugare che è quello dell'essenzialità dalla gradualità nel cammino di vita in cui il catecumeno è più importante perché è stato raggiunto dall'iniziativa di Dio è più importante di noi addirittura delle nostre comunità le nostre comunità sono un grembo e il travaglio il nostro nostro lavoro è di partecipare di tutto il travaglio e il travaglio non significa solo dolori significa anche la gioia dell'accoglienza e di parteciparne per questo è molto bello mi è piaciuto molto e io solo ringrazio ringrazio Andrea ma ringrazio se non ringraziassi pubblicamente Pina io sarei in deficit perché mi ha sopportato in tutti questi anni mi sopporta è una presenza preziosa prima mi sono permesso di mettere la copertina nel gruppo nazionale e hanno detto ognuno voglia una coppia io ti dico subito siamo una docina e ha ringraziato Sor Pina Est che condivide le esperienze che voi fate sia formative sia nelle varie situazioni che sono proprie della diocese di Roma unica in questo senso avere il Papa come vescovo mi è piaciuto molto sentire anche dalle domande che alcune questioni sono comuni in tutte le diocesi solo che noi non abbiamo 120 catecomini all'anno